Sarà lo spettacolo Vergine Madre di Lucilla Giagnoni a dare il via all'inedita stagione teatrale del Circolo Cultura e Stampa Bellunese al Teatro Piero Bon di Paiane, iniziativa promossa dall'Ente in collaborazione con l'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi. È una prima nazionale con sei spettacoli, cominciamo sabato 28, una straordinaria interprete, un'attrice toscana che cominciamo con la divina commedia, questa divina umana commedia e Lucilla Giagnoni che ha già avuto dei premi straordinari per questa interpretazione che io ho già ospitato a Belluno a Feltre, e quindi sono sicuro di questo successo, parte dall'Inferno e racconta sei canti dell'Inferno e del Paradiso e parte dal primo canto dell'Inferno per poi raccontare l'uomo Ulisse, la donna Francesca, la bambina Piccarda, il padre Ugolino e la madre, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. E quindi si parte dall'Inferno e si arriva al più alto canto della poesia dantesca che diventa preghiera. Io credo che abbiamo iniziato bene perché in questo momento, con i tempi di guerra che lampiggiano al nostro orizzonte, non ci resta altro che la riflessione, la poesia e la preghiera. Una stagione che a Paiane proseguirà fino al 17 febbraio 2024 in affiancamento alla 47esima stagione di prosa al Teatro Comunale. A parte i 500 abbonati che abbiamo a Belluno, oggi registriamo 70 abbonati a Paiane. Mi dicono che è un buon risultato come partenza. La qualità e l'offerta di questo prodotto teatrale fa sì che anche la periferia possa godere di una pausa di riflessione e anche di un sorriso vicino a casa, staccando un momento la spina dalla vita quotidiana e dedicandosi un po' a rinfrancare la loro anima.